Ciao a tutti e bentornati ad Overa Gondoro, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Oggi per Il Signore degli Anelli andremo a fare una recensione e guida agli acquisti di uno dei cicli che compongono l'intero gioco. In particolare andremo a vedere di che cosa parla, se questo ciclo è stato ristampato oppure no all'interno della Revised Edition. Faremo delle considerazioni generali sulla difficoltà e sulla complessità e infine andrò a concludere consigliando perché vale la pena acquistare questo ciclo o perché non vale la pena acquistare questo ciclo. Questa rubrica, che ha l'intenzione di durare non più di 15 minuti, è complementare alle altre rubriche sul canale che trovate se spulciate nelle playlist. In modo particolare, per ogni ciclo potete trovare all'interno delle playlist la corrispondente playlist che affronta in maniera dettagliata l'analisi delle carte giocatore e anche le avventure giocate in True Solo Progression o, qualora fossero state giocate sul server Discord o in un multigiocatore, anche con l'aiuto di altri giocatori. Pertanto, lo scopo di questa rubrica è quella di rispondere alla domanda che spesso viene fatta sui forum, sulle pagine Facebook. Ho trovato a poco prezzo questo ciclo. Vale la pena comprarlo? Sono indeciso se comprare il ciclo A o il ciclo B. Quale dei due mi viene consigliato? Lo scopo di questa rubrica, in una modalità anche, se vogliamo, podcast, è un po' quella di rispondere a queste domande. Vi consiglio poi, per avere ulteriori informazioni, di andare a visitare le corrispondenti rubriche all'interno delle playlist proprio per avere un quadro completo che non è concentrato solo sulle carte incontro, di cui questa rubrica farà un'analisi veloce, ma anche sulle carte giocatore, che sono ovviamente una parte integrante dell'intero ciclo. Per finire questa introduzione e lanciarci poi sull'analisi, io vi ricordo, se vi piace il canale, di iscrivervi, che è un modo semplice per farlo crescere, di venirci a trovare sul server Discord di Dovera Gondor, dove troverete tanti altri appassionati, di seguire Dovera Gondor sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram, se apprezzate i miei contenuti e volete offrirmi un caffè, di considerare l'idea di abbonarvi al canale YouTube e se volete far parte dei sostenitori del canale potete anche andare su www.patreon.com.dovera.gondor dove troverete tante informazioni per quello che è il malloppo annuale riservato ai sostenitori Patreon. Infine trovate tutti questi dettagli e tutti questi link in descrizione a questo video. Parliamo quindi del risveglio di Angmar, sempre con questo formato nel quale cercherò di stare intorno a questi 15-20 minuti. Mi sarà difficile perché confesso prima di iniziare che il ciclo di Angmar è con ogni probabilità, se non il mio preferito, tra i miei preferiti in assoluto. Quindi mi sono dovuto sforzare per un po' continuare questa struttura nella quale si evidenziano i perché sì e i perché no e in particolare su questa mi sono dovuto sforzare sui perché no, perché a mio avviso io sono particolarmente legato e qui raggiungiamo un picco che difficilmente viene superato anche nelle avventure successive. Quindi Angmar è un po' il primo vero ciclo moderno, è un ciclo di qualità altissima, vedremo tanti perché sì, ho trovato qualche perché no, però sappiate che questo ciclo ci catapulta nel nord della Terra di Mezzo, qui entriamo un po' nel di che cosa parla, in cui vivremo questa avventura a contatto con i Dunedain, no, Aldor e Dunedain, ma in particolare i Dunedain, nell'antico reame di Angmar. Quindi ci ritroveremo a confrontarci contro orchi, contro non morti, contro spettri, contro un nemico che ci inseguirà per diverse avventure e anche, e qui è una novità se vogliamo, non perché non ci sia negli altri cicli, ma perché per la prima volta è reso in maniera veramente palpabile anche il meteo avverso, il clima, le tempeste di neve, cosa che avevamo già visto in precedenza, ma che in questo ciclo è ulteriormente, a mio avviso, ben fatto da un punto di vista meccanico. Quindi di che cosa parla? In sintesi andremo ad accompagnare i Dunedain in questa guerra, che hanno nei confronti degli spettri, dei non morti e degli orchi di Angmar, e quindi ci muoveremo, per esempio, nelle distese dell'Eriador, nella forra dei morti, cercheremo di scappare da Montegram, dove verremo presi i prigionieri, attraverseremo gli Erembrulli, con tutte le difficoltà legate a questi luoghi aspri, sia per i nemici che per il proprio luogo, la difficoltà del viaggiare, il clima, le tempeste di neve. Entreremo un po' nel dettaglio di quella che è la maledizione del Rudaur, per poi trovarci a combattere una decisiva battaglia a Karn Doom, e infine avventurarci nel Reame, Dread Realm, nel Climatic Conclusion dell'Angmar Awakened Cycle. Quindi, andando proprio un po' al cuore di questa avventura, che appunto vedrà noi e i pro di Dúnedain arrivare al Reame, al cuore del Reame di Angmar, per, in qualche modo, sconfiggerlo. Quindi questo è ciò di cui parlerà. Angmar è il primo ciclo che è stato ristampato con la Revised Edition, quindi, a differenza del ciclo precedente di Isengard, che ha una sua rarità, Angmar fa parte del ciclo della Revised. E infatti vi racconto questo aneddoto, che la dice un po' lunga sulla qualità di questo prodotto, quando la Fantasy Flight chiese a Caleb Grace, e in generale agli sviluppatori, di scegliere tre cicli su cui sviluppare una modalità campagna, e che fossero, in qualche modo, i più belli, i più validi, i più logici, se così vogliamo dire, per una seconda edizione, non ci fu alcun dubbio sul fatto che i tre cicli scelti sono stati, sarebbero stati, e quindi di conseguenza sono stati, il ciclo di Angmar, il ciclo della Cercasoni e il ciclo degli Ered Mitrim. Questo perché, come dicevamo, con Angmar entriamo nel concetto di gioco moderno, dove le meccaniche sono affinate, dove la narrativa è incalzante e racconta una storia che si instaura bene all'interno della storia della Guerra dell'Anello, cosa che avevamo già visto con Isengard nella sua imperfezione a livello meccanico, invece con Angmar entriamo proprio nel vivo, nella parte fantastica, fantastica intesa come bella di questo gioco che tanto adoriamo, che tanto adoro. Quindi, è un ciclo difficile, sì. Qui raggiungiamo picchi di bellezza, narratività, immersività, ma anche difficoltà, anche complessità. Per esempio, Angmar è il ciclo in cui nascono le side quest, quindi oggi, per chi fa parte della seconda era, le ha trovate subito con Angmar, ma sappiate che ci è voluto un bel po' prima che questo concetto arrivasse. E chiaramente aumentano la complessità, perché potete giocare carte giocatore, potete scegliere le carte impresa, tutto il ciclo verterà sulle carte impresa secondarie, anche la modalità campagna nuova verterà su quello, quindi aumenta la complessità. C'è una bellissima avventura, le distese dell'area di Ornella, sua incredibile difficoltà e immersività, in cui ci sarà questo obiettivo luce del giorno e notte, che è stato, tra l'altro, suggerito dagli sviluppatori di utilizzarlo anche su altre quest. È uno scandire del tempo, nel quale di giorno i nemici sono meno pericolosi e di notte, invece, lo sono di più. È un modo per incalzare ancora di più l'avventura. Ci saranno i luoghi rifugio attraverso gli Rembrulli, nei quali, come dire, potrete rifugiarvi dal clima ostile e dai troll e dei giganti che infestano quest'area. Quindi, insomma, da un punto di vista di complessità siamo di fronte a un picco e da un punto di vista di difficoltà abbiamo all'interno, con buona probabilità, l'avventura più difficile del gioco. Mi riferisco alla battaglia di Cardoom, avventura estremamente difficile, perlomeno tra quelle base. Nei Nightmare forse c'è qualcuna che la supera, ma, in generale, diciamo che quando voi riuscite con un mazzo a superare Cardoom, beh, insomma, avete una marchio di fabbrica su quel mazzo, tale per cui potete dire di aver superato Cardoom, che è ragionevolmente la quest, l'avventura più difficile dell'intero gioco. Quindi, siamo di fronte a un prodotto dove la difficoltà c'è, c'è nella Forra dei Morti, c'è nelle Colline Vento, c'è nelle distese dell'Eriador, c'è nel Dread Realm finale. Quindi, da un punto di vista di difficoltà, Angmar vi sbatte in faccia tutto ciò che questo gioco può offrire in termini di schiaffoni. Ecco così, per dirlo in maniera colloquiale. Cioè, ci siamo di fronte a un ciclo dove mettetevi l'anima in pace, perché c'è da remare fin dalla prima avventura. Da un punto di vista, se vogliamo, puramente meccanico, ci troviamo di fronte a un 6.4 di media, di difficoltà, dove però abbiamo alcuni picchi, tra cui appunto la battaglia di Cardoom, con questo assurdo 9.2. Quindi, effettivamente, sappiate che quando arriverete a Cardoom ci sarà veramente da fare tanta, tanta fatica. Ora, perché sì e perché no? E qui instauriamo un po' un discorso e poi andremo a concludere in questi pochi minuti. Allora, io che cosa intendo con ciclo moderno? Il ciclo moderno è un ciclo in cui la narrativa è ben inserita nel contesto della storia, le avventure sono meccanicamente e da un punto di vista di complessità raffinate, non lasciano spazio a dubbi, interpretazioni, modifiche, integrazione alle regole e soprattutto dove l'indirizzo che gli sviluppatori hanno dato al ciclo non è tanto quello di dover cambiare il mazzo ad ogni singola avventura, questo per me è il punto chiave, cosa che faceva parte dei cicli iniziali del signore Nianelli LCG quanto aumentare la difficoltà ribaltandola sulla qualità del mazzo. Che cosa vuol dire? Questo è un concetto, diciamo, che io ho in testa bene e spero di riuscire a spiegarvelo. Pensiamo al primo ciclo di Boss 4. Voi fate lo scontro alla carroccia dove se state sotto minaccia 34 e gestite trollo ogni turno non c'è problema, qualsiasi mazzo avete lo devastate, devastate lo scenario. Pensate a Viaggio a Rosgobel dove se non mettete cura non potete neanche giocarlo questo scenario. Ecco, il tratto distintivo dei primi cicli del gioco che va ovviamente migliorando a partire da Ombra di Boss 4 in poi è quello di trovare quella che è la chiave di volta per affrontare lo scenario. Pensate a Gondor, ai mazzi monosfera, alla parola chiave battaglia, alla parola chiave assedio. Cioè, se non avete dei personaggi che hanno alti valori di difesa in quell'avventura non potrete neanche questare in una quest con assedio. Pensate alla stregoneria del ciclo di Gondor che penalizza i mazzi di più colori. Se invece avete un monocolor non avete problemi. Quindi, diciamo, il gioco si è evoluto da un concetto in cui la difficoltà era trovare il mazzo con cui io supero quell'avventura ha una difficoltà in cui ti massacra da un punto di vista di difficoltà. Ogni quest ti massacra ma ogni quest è diversa e se tu hai un mazzo che sa far fronte bene a tutti gli aspetti del gioco allora ce la puoi fare. Cioè, il concetto è siamo passati da mazzi che devono essere super tailorati per un'avventura a mazzi che devono essere forti in quanto tali per poter affrontare l'intero ciclo. E in questo senso io penso che Angmar sia il primo velo ciclo moderno in cui se voi arrivate ad avere un mazzo che ha tutti gli ingredienti la gestione della minaccia la pesca la forza in difesa lui il paura iniziale il giusto rapporto tra le hat e attachment la combo su cui si base tutto beh, avete gli strumenti per poter affrontare tutte queste avventure. Quindi in questo senso io lo dico ciclo moderno poi è chiaro che Carn Doom richiede alcune attenzioni è chiaro che la forra dei morti se andate a inserirci delle carte che quando scartate trovate entrano in gioco perché automaticamente lo scenario vi fa scartare carte dal top del mazzo allora è meglio se gestite i nemici quelli morti maledetti che quando sono rivelati ributtano tutti i morti maledetti in area dell'estimento con le trappole è meglio e così via cioè ogni avventura mantiene il suo criterio le sue caratteristiche di unicità tuttavia Angmar rappresenta una transizione o meglio la transizione ce l'abbiamo già in Isengar un punto di arrivo tra un approccio dove devo trovare la chiave per superare ogni singolo scenario a un approccio in cui invece devo avere un mazzo performante per poi trovare la chiave per superare ogni singolo scenario e questo fa del risveglio di Angmar a mio avviso la migliore espansione in ordine cronologico dal punto da quando è uscito il gioco quindi ombre di boss 4 nanosterro Isengar e Angmar sicuramente si va a salire ma rappresenta anche un picco che a mio avviso verrà tenuto per un paio di cicli e poi andrà un po' calando soprattutto sul finale del gioco penso al ciclo di Mord quando ci arriveremo capiremo perché quindi perché sì perché è un ciclo moderno perché la qualità è altissima perché l'immersività è piena perché è difficile per il flavor sulle carte perché vedrete anche dei personaggi iconici all'interno della guerra dell'anello ci sono degli alleati obiettivo c'è un boss fight continuo nel corso delle avventure con un nemico che continuerà a tormentarvi combattete non solo contro dei nemici ma anche contro un territorio un luogo ostile dal punto di vista meteorologico e climatico e c'è una fantastica storia che vi accompagna per tutto l'intero ciclo perché no qui diventa difficile dire il perché no io ci ho pensato un po' e ho trovato due punti che possono essere evidenziati sul perché no fermo restando che appunto anche la scelta degli sviluppatori nel concetto della revised e apro una parentesi la campagna di Hangmar della revised secondo me è davvero molto bella quindi in questo senso oltre ai soliti link che vi lascerò alla fine vi lascerò anche il link alla recensione della campagna di Hangmar chiudo parentesi e quindi già gli sviluppatori avevano scelto identificato Hangmar come prodotto di punta di partenza per la linea revised perché oggettivamente la qualità è altissima anche le carte giocatore sono altissime abbiamo A abbiamo Arwen abbiamo la luce elfica abbiamo i Dunedain è davvero difficile trovare dei perché no tuttavia evidenzio due perché no il primo è che è difficile è all'interno alla quest più difficile di tutto il gioco quindi amici che giocate in true solo sappiate cioè se cercate un'esperienza più soft potete andare sulla cerca sogni potete andare su Isengar su Nanosterro Hangmar picchia durissimo quindi il perché sì della difficoltà può anche essere visto come un perché no l'altro perché no mi rendo conto che è un po' più debole ma comunque come dire teniamo l'onina il calderone è che il ciclo di Hangmar butta fuori un nuovo archetipo che sono i Dunedain che è quello con cui si è diciamo portati a voler affrontare questa avventura da un punto di vista logico di storia tuttavia è un archetipo che in solo fatica un po' sto dicendo che non è possibile affrontare la la storia del ciclo di Hangmar senza i Dunedain no tant'è che nel mio playthrough della campagna che vi lascio qui e quindi potete un po' cliccare aprirlo e vedervelo anche con calma dopo ho usato un mazzo a trazione Dunedain tuttavia l'archetipo Dunedain fa un po' fatica nella forza di volontà e quindi questo non è diciamo automatico non è un archetipo automatico che possa essere scelto per il strusolo ovviamente funziona bene quando è accompagnato a un Noldor e infatti nel mio playthrough avevo usato Arwen come chiave centrale poi anche Restore perché i Dunedain tutto sommato da soli stentano un po' soprattutto per quello che è il willpower ora mi rendo conto che il perché no è debole rispetto ai perché sì però davvero siamo di fronte a un prodotto e andiamo a concludere che rappresenta il primo vero ciclo moderno di questo gioco che all'interno delle meccaniche interessantissime validissime il giorno notte il flip di Taurdir la quest più difficile del gioco attraverso gli Rembruli fuga da Montegram che nella sua facilità però è molto ben congeniata e nella modalità campagna dà luogo ad alcune diciamo scelte o situazioni molto particolari è una terra che vive è una terra che vive dalle carte il signor Ianelle e Cigia nella sua parte della forte ambientazione ecco ecco il risveglio di Angmar fa vivere questa terra ostile aspra anche attraverso le meccaniche anche attraverso il clima attraverso il metro le tempeste di neve la difficoltà del viaggio il giorno e la notte quando giocherete il risveglio di Angmar vi sentirete lì insieme ai Dunedain braccati dai warg assediati dai non morti a confrontarvi con Taurdir a svelare questo antico mistero che accomuna i Dunedain e Angmar e in definitiva vivrete meccanicamente da un punto di vista di complessità da un punto di vista di ambientazione di coinvolgimento una delle migliori storie di tutto il signore gli anelli e le Cigi io spero che questo video vi sia piaciuto vi lascio qui tre playlist una dedicata all'analisi delle carte di questo ciclo una dedicata alle recensioni alle guida agli acquisti dei tutti i cicli e una dedicata ai gameplay spero che vi possano essere utili per avere un quadro generale su questo ciclo io come sempre vi ringrazio ciao alla prossima grazie a tutti i città Grazie a tutti.